Nel recupero della sedicesima giornata il Pineto vince per 2-0 contro il Coriaceo Matese e interrompe dopo 105 giorni la striscia di 16 risultati utili consecutivi dei campani. Calcio d'inizio per gli ospiti, pronti via e il Pineto va vicinissimo al vantaggio. Cernaz sgraffiglia la sfera a centrocampo, si invola e serve Romano ma il palo nega la gioia del gol dopo neanche un giro di lancette. I biancazzurri spingono sull'acceleratore, Minnozzi su punizione sfiora il palo, i lupi rispondono al quarto d'ora, Adusa ben imbeccato non è preciso, sempre i biancoverdi si affacciano con Abreu, il leone di Madeira con Avolè spara alto, la squadra di Mister Pomante risponde alla mezz'ora. Cross mancino di Della Quercia, Romano non ci arriva e Cernaz riesce solo a toccare col petto graziando Palombo. Nella ripresa dopo una girandola di cambi, al 65esimo arriva la prima occasionissima, contropiede orchestrato da Minnozzi, Minincleri appoggia la sfera al numero 17 che trova Palombo non in bello stile ma graziato dal legno. Sul rimpalo la sfera piove sulla linea, Minincleri nel tapin commette falo di carica sull'estremo difensore avversario, sempre la formazione di casa cerca il vantaggio. Pisturi per Minnozzi sceglie di convergere sul destro e perde l'attimo in piena area ospite. La squadra del presidente Brocco però trova il meritato 1-0, Minincleri si accentra e fulmina sul suo palo Palombo. Il vantaggio rompe gli schemi dopo un solo giro di lancette e Cercelluti a trovare il pesantissimo raddoppio. La risposta dei campani arriva dal neoentrato Felici, la conclusione del numero 15 si spegne però larga, non succede più nulla, il Pineto vince e convince per 2-0 contro il Matese.